Esamineremo un altro prezioso dono, il sofisticatissimo sistema sensitivo. Ne fanno parte le mani, gli orecchi, gli occhi e ovviamente l'eccezionale cervello. Prendiamoli in esame uno ad uno. La mano. Le mani sono strumenti in cui la bellezza si combina con un'eccezionale precisione. Con le mani possiamo infilare un filo nella cruna di un ago o brandire una scure, dipingere un ritratto o suonare il piano. Inoltre, le mani sono molto sensibili. In un attimo ci dicono se la sostanza che stiamo toccando è carta, pelle, metallo, acqua, legno e così via. In effetti non sono solo strumenti per afferrare gli oggetti e servirsene. Sono anche un mezzo per ricevere informazioni sul mondo che ci circonda e ci permettono di manifestare calore e affetto. A cosa sono dovute la maestria, l'espressività, la sensibilità e la versatilità della mano? I fattori sono molti. Esaminiamone quattro. Primo. Complessivamente, nelle nostre mani ci sono più di 50 ossa, vale a dire, circa un quarto delle ossa presenti nel corpo umano. Le varie parti di cui si compongono le mani, le ossa, le articolazioni e i legamenti, danno vita a un meccanismo intricato, ma straordinariamente flessibile. Secondo. La mano è dotata di un pollice opponibile alloggiato in un'ingegnosa articolazione a sella, in cui due superfici, per l'appunto a forma di sella, sono disposte ad angolo retto fra loro. Questa giuntura, assieme ai relativi muscoli e ad altri tessuti, conferisce al pollice flessibilità e forza straordinarie. Terzo. Il movimento della mano è controllato da tre gruppi di muscoli. I due gruppi più grossi, gli estensori e i flessori, si trovano nell'avambraccio e da lì muovono le dita per mezzo di tendini. Immaginate quanto sarebbero voluminose e goffe le nostre mani se dovessero ospitare questi muscoli. All'interno della mano, invece, troviamo solo il terzo gruppo di muscoli, che è molto più piccolo e conferisce precisione ai movimenti delle dita. Quarto. Di fatto, le dita sono dei veri e propri sensori, con circa 2500 recettori stipati in un solo centimetro quadrato sui polpastrelli. Per di più, ci sono vari tipi di recettori, ognuno dei quali deputato a svolgere una certa funzione, che ci permettono di percepire al tatto consistenza, temperatura, umidità, vibrazione, pressione e dolore. Questo rende le dita delle mani i sensori tattili più sensibili che si conoscano. Che ne dite? È frutto del caso o di un progetto?